Good morning Juventus. È giusto che io affronti questa tematica perché dopo quello che sta accadendo, soprattutto quest'anno, ritengo giusto farlo. Il bel giuoco, come diceva Silvio Berlusconi, ricorderete, che giocava molto sul giuoco, su questa parola. La Juventus di Allegri non ha mai brillato per il gioco. La Juventus di Allegri è sempre stata una squadra fatta di giocate individuali che risolvono le partite. Non ultima la partita dell'altra sera, di sabato sera, Juventus Verona, dove Miretti dà una bella palla a Locatelli, Locatelli illuminato, un Locatelli in grande spolvero come non lo è mai stato in tutta la stagione, dà un pallone d'oro a Ken, il quale anziché impappinarsi come spesso fa, la butta dentro e fa un bel gol. Un gran bel gol, un gran bel gol, va detto, un gran bel gol. Una azione singola, unica in tutta la partita e la Juventus ha vinto. Il resto, come direbbe il buon Califano, è stato noia. Una partita brutta, una partita giocata male, una partita con tanti errori tecnici, con tanti errori di misura, stop sbagliati da giocatori strapagati. Insomma, in poche parole, questa è una Juve brutta ma vincente. Sì, vincente, perché voi non dovete guardare i meno 15, voi dovete guardare che la Juventus ha 59 punti. 59 punti distaccando la terza, la quarta, la quinta, la sesta. Io non so se ce li ridaranno, se non ce li ridaranno, se ce ne daranno degli altri, non mi interessa. Io guardo da sempre il campo, per me la Juve, lo sapete, l'ho detto più volte, ha 38 scudetti e non 36, perché i due anni di capello sono stati sudati partita dopo partita per 38 giornate in tutti i stadio d'Italia. Io l'ho visto giocare più volte perché all'epoca andavo ancora allo stadio, avevo ancora la voglia, poi mi è passata perché certe cose mi hanno disinnamorato degli stadio e del calcio. L'ho vista a Parma, l'ho vista a Torino tante volte, sono andato a vedere la Juve, quella famosissima, la ricorderete, stupenda. Insomma, io ho visto una Juve che era una gran bella squadra, una Juve che aveva un potenziale enorme anche in Europa, purtroppo però, buttato via e quindi per me quegli scudetti sono stati vinti. Però la Juventus, specialmente da quando c'è Allegri, il bel gioco ce lo possiamo dimenticare. Fatto sta che però gioca male con il Verona e vince, gioca male con il Lecce e vince, gioca male con la Selanitana fuori casa e vince, gioca male con la Spezia e vince, gioca male con il Nantes e vince, gioca male con il Friburgo e vince. E allora io che cosa vi devo dire? Vi devo dire che probabilmente le squadre di Allegri sono costruite sulla mentalità e sul pragmatismo. Pragmatismo e mentalità non fanno sicuramente parte del bel gioco, perché il pragmatismo, lo dice la parola stessa, è praticità, cioè il fine giustifica i mezzi di Riffa o di Raffa, di cortomuso, di cortoculo o di come volete voi o quella giocata vincente, la partita la vinco. Resta il fatto che squadre che promulgavano idealmente un bel calcio non è che stanno facendo tanto bene, no? Per cui teniamo da parte il Napoli, stagioni come quella che sta facendo il Napoli le fai, avete visto, una volta nella storia, perché l'anno scorso il Napoli a febbraio si è sciolto e dal primo posto che era addirittura è arrivato terzo in classifica, rischiando se c'erano ancora due giornate che magari la Juventus la scavalcasse. Quindi non fa testo, è vero, Napoli gioca bene, il Napoli sta vincendo e vinceremmo effettivamente lo Scudetto. Questo sì, non quello in albergo che non l'ha mai vinto. Per cui io veramente rimango allivito perché io stesso che sono un opinionista di calcio, avendo un canale YouTube dove parlo di calcio, dove parlo di Juventus, faccio fatica a trovare una giustificazione plausibile da portare alla vostra attenzione, ovvero come mai la Juventus fa schifo, perché la Juve fa schifo, gioca malissimo, vedi delle giocate che non vedi neanche fare nei ragazzini sotto casa se hai un campo da calcio vicino a casa e però la Juve vince. Vince perché probabilmente nei singoli la Juventus trova sempre la quadra, trova sempre la risposta. C'è quella volta che fa un partitone chiesa e te la risolve lui, c'è quella volta che ti fa un partitone di Maria e te la risolve lui, c'è quella volta che il Lucatelli è in grande giornata e ti fa l'assit vincente per la vittoria, c'è quel Kostic che ti imbrocca ultimamente fa cross sontuosi, all'inizio erano un po' così raffazzonati, probabilmente ha preso le misure, adesso non sbaglia un cross e quindi arrivano un sacco di palloni sprecati dagli altri perché è tanta roba quello che sta facendo adesso a Kostic, io sono molto contento di dire questa cosa, visto che l'ho criticato tanto, eppure la Juventus è brutta, brutta ma vincente. E sì, va detto, signori, rendiamocene conto in conclusione. Se la Juventus dovesse, senza che ci tolgano i punti di penalizzazione, arrivare tra le prime quattro, ovviamente secondo, terzo, quarta, perché prima non ci arriverà mai, è un miracolo calcistico. È un miracolo calcistico. Perché una squadra che viene penalizzata di 15 punti è come se tu stai facendo la maratona di New York, arriva uno che ti dà una martellata su un ginocchio. Uguale. Cioè tu con una martellata su un ginocchio, pur che tu ti riprenda, non avrai più la mobilità che avevi prima quando eri sano, completamente sano. Quindi la mazzata che è stata presa tra capo e collo dei 15 punti avrebbe distrutto un branco di elefanti. Invece la Juventus si è fatta sulle maniche ed è questa la grande forza di Massimiliano Allegri, che come allenatore non mi piace. Cioè come creatore di calcio non mi piace. Allegri non è uno che promulga a calcio. Ma va detto e va riconosciuto che Allegri sa gestire lo spogliatoio. Non c'è niente da fare. È raro che escano voci dallo spogliatoio di un giocatore che si ribella, di un giocatore che si mette di traverso. Magari escono però poi rientrano. Cosa che in altre squadre ci sono spaccature, giocatori che vengono ceduti perché l'allenatore non li può più vedere. Ecco, Allegri a questo punto di vista va detto che è un grande psicologo. Tra l'altro sa stemperare molto bene la tensione perché è un uomo di ironia. Insomma, quindi diciamo che questo campionato mi sta ridando delle valutazioni di Allegri nella sua completezza che non sono poi così negative. Ripeto, io ne vorrei un altro sulla panchina della Juve. Lo sapete, chi mi segue da tanto tempo lo sa. Vorrei un allenatore che propone calcio. Un italiano che a me piace tantissimo, ve l'ho sempre detto. Guardate come gioca la Fiorentina e guardate che gli hanno distrutto mezza squadra. Perché Cabral, non è che sia tutto questo gran giocatore. Però adesso anche Cabral si è messo a giocare bene. Perché arrivano tanti palloni, la Fiorentina è spugnato San Siro. È vero che l'Inter non è questa grande squadrone, però è spugnato San Siro. Quindi, però ripeto, la Juve non ha un bel gioco ma vince. E qui bisogna farsi delle domande. Cioè, non può essere un caso. Non può essere un caso. Una squadra che lascia giocare. Non è che non è capace di giocare e basta. Lascia giocare gli avversari. Il Verona a Torino ci ha palleggiato in faccia. Ha vinto la Juve. Ha vinto la Juve. La Serenitana ci ha palleggiato in faccia. Ma se non imbrogliavano con quelli del VAR, avrebbe vinto la Juve. Capite? Cioè, una Lazio che era partita benissimo a Torino, giocando veramente molto bene, ha preso tre pappine da noi e ha vinto la Juve. L'Inter è venuta a Torino per giocarsela e ha vinto la Juve. Capite cosa voglio dire? A Milano l'Inter ci aveva messo sotto all'inizio. Ha vinto la Juve. Cioè, nelle ultime, nelle ultime otto partite, la Juve è niente sette. A Roma abbiamo perso, ma se vi ricordate, a Roma sono stati fatti degli errori. Io ho criticato tantissimi giocatori in quella partita. Errori dei giocatori marchiani. Passaggi sbagliati a un metro. Non c'era movimento senza palla. Giocatori che erano molli, erano senza... Quindi, voglio dire, lì ho anche giustificato a lei, che lo ricordo come se fosse adesso. Quindi, signori, è inutile. Il famoso dilemma bel gioco, non bel gioco, non regge, non regge, non si regge. Questa è una Juve che, se non ci fosse stato il Napoli così forte e la penalizzazione assurda che ci è stata inflitta, sarebbe in lotta per lo Scudetto. E questo la dice lunga sul bel gioco tanto promulgato da tutti. Ripeto, io vorrei una squadra che gioca bene e vince, come sta facendo il Napoli adesso. Ma il Napoli è una mosca bianca. Il Napoli, l'ultimo Scudetto, l'ha vinto nel 1989. Siamo nel 2023. Sono passati 34 anni. Cioè, non una settimana. Io preferisco vincerlo anche non giocando bene, come ha fatto la Juve, per esempio, per nove anni di fila. Oppure magari un anno la Juve, poi un anno e un altro, poi ancora la Juve. Capite? Cioè, alla fine aveva ragione Bonimperti. Vincerlo non è importante. È l'unica cosa che conta. E la Juve, signori, ultimamente, va detto, in Europa League, in Coppa Italia e in campionato sta vincendo. Incrociamo le dita e speriamo che questo trend non si interrompa mai. Good morning, Juventus.